Ciao da Roberto e benvenuto in questo video, in questo video in cui andremo a scoprire le quattro abitudini che bisogna coltivare, che è necessario coltivare, che devi far tue per raggiungere il successo. Il successo, qualunque sia l'idea che tu abbia nella testa, l'idea di successo, è una conseguenza, che sia nell'ambito familiare, nell'ambito lavorativo, nell'ambito delle amicizie, nell'ambito spirituale, nell'ambito finanziario, qualunque sia la tua idea di successo, di realizzazione, passa attraverso una conseguenza. Quale? La conseguenza delle abitudini che adotti. Possiamo ragionare su questo. Tutti i nostri risultati sono la conseguenza delle abitudini che adottiamo. Ragioniamoci ancora un po', scendiamo ancora più in profondità. Il fallimento, per esempio, è una conseguenza di abitudini sbagliate. Adottiamo idee e pensieri negativi, abitudini che non ci fanno crescere, ad esempio la pigrizia, una su tante. Questo ci porta a un fallimento. Abitudini sbagliate, errori, fallimento. Non otteniamo ciò che desideriamo. Ma è vero anche il contrario. Il successo è una conseguenza delle buone abitudini. Siamo produttivi, siamo energici, siamo carichi, siamo positivi, con idee positive che le mettiamo in pratica e otteniamo quello che è la nostra idea di successo, il nostro risultato positivo. Quindi, il successo è una conseguenza. Di cosa? Di quattro abitudini. A questo punto sì, possiamo racchiudere in quattro abitudini quelli che sono i nostri risultati, i nostri successi. Per raggiungere il successo sono necessarie queste abitudini che ci permettono di ripetere tutte quelle azioni fondamentali che ci hanno guidato dove noi desideriamo essere. Ed una ad una adesso le andremo a conoscere. Le quattro abitudini per poter ottenere quello che desideriamo. La prima, coltivare il desiderio ardente. C'è un aforisma di Tony Robbins che ci dice Se almeno una volta nella vita avete ottenuto un buon risultato, potete rifarlo, ripetendo le stesse azioni mentali e fisiche compiute allora. Questo aforisma di Tony Robbins è il segreto in molte, molte abitudini che noi adottiamo. Perché ci dice che abbiamo sia delle azioni mentali, sia fisiche, che possiamo ripetere, che possiamo continuare a ripetere. E come sappiamo tutti, il successo nasce prima di tutto dalla nostra testa. E che cos'è che possiamo coltivare come abitudine nella nostra testa? Il desiderio ardente. È quello che poi ci insegna Napoleon Hill, colui che ha aperto la strada all'idea del successo come abitudine. Napoleon Hill ci ha indicato la via del successo, coltivando il desiderio ardente nella nostra testa. E possiamo prenderlo e coltivarlo attraverso due domande, il nostro desiderio ardente. La prima, quanto desideri ottenere il successo? È una domanda grande, generica, che ti fa vedere il quadro di quello che è la tua voglia di successo, il tuo desiderio, il desiderio ardente. E quanto lo desideri? Puoi quantificarlo in cose, in tempo, in azioni. Qui hai il tuo quadro generale, la fiamma enorme che devi andare a coltivare. E poi la seconda domanda è quanto desideri realizzarti? Qui si rimane sempre nell'idea del desiderio ardente, ma si scende leggermente più in profondità, si scende in basso, si scende nel tuo io personale. Quanto desideri realizzarti? Quindi il successo è una realizzazione personale. Quello che desideri realizzare attraverso piccoli successi. Quanto desideri realizzarti? E lo troviamo qua, in questa frase. Coltivare il desiderio alimentandolo attraverso piccoli successi. Alimentare la passione, alimentare l'entusiasmo, che ti permette ogni giorno di andare avanti. Quindi, come vedi, il desiderio ardente, il quadro generale, ha necessità di passione, ha necessità di entusiasmo, ha necessità anche dei piccoli successi quotidiani. È tutto questo che alimenta quel desiderio ardente, che ti permette di ottenere il tuo successo. O i tuoi successi, tanti, tanti successi. Perché nella vita non è che otteniamo un successo unico, ma sono tanti, tanti piccoli risultati, che insieme ti fanno stare bene, ti danno quel benessere personale. E a questo punto, però, il desiderio ardente, ti dico che non basta, perché è necessaria la seconda abitudine che devi coltivare. Ecco, vedi la fiamma del desiderio ardente? Quello sei tu. E devi coltivarlo con qualcosa di pratico, le tue abilità. Devi coltivare le tue abilità. Il desiderio adesso non basta. Quello che devi chiederti, anche qua, è quali sono le abilità. Quali sono le tue abilità tecniche, personali, le tue proprio capacità di fare qualcosa. Mettilo per iscritto, fai una lista. Metti proprio nero su bianco, in modo chiaro, quali sono le abilità, cosa sai fare. E poi, di nuovo, ancora la seconda domanda, come prima, che scende un po' più in profondità. Quanto tempo dedichi nel cercare di affinarle e migliorarle? Come vedi anche qui, esattamente come prima, il quadro generale, le abilità. te stesso. Quanto tempo dedichi nel cercare di affinarle e migliorarle? E se abili in qualcosa, è solo una parte del talento. Perché puoi essere veramente bravo nel fare qualcosa, ma se non ti ci dedichi, se non ti ci applichi, in maniera costante, non riesci ad ottenere quello che desideri. Devi prolungare nel tempo il tuo beneficio. non è solo un'azione che ti porta dove vuoi essere, ma è una sequenza di azioni pratiche, capaci, costanti, del tuo talento, delle tue abilità, di ciò che coltivi e fai tuo, prolungato nel tempo. Un'abitudine positiva che ti guida fino al successo. Ma, come ci diceva Anthony Robbins, serve ancora qualcosa. Bisogna tornare di nuovo nella testa. L'alternanza mente e corpo. È la terza abitudine. Trasforma la tua mente. Un po', no? Come Morfeo qui. Pillola rossa, pillola blu. Trasforma la tua mente. Significa? Prima immaginare. Allenare la mente a creare attraverso le immagini, le idee, farle venire su, coltivarle, farle brillare nella tua testa. Prima c'è l'immagine della tua idea vincente, della tua idea di successo. Quindi devi fare pulizia, chiarezza. Non puoi coltivare qualcosa di positivo in una testa piena di negatività. Ecco perché devi trasformare la tua mente. Prima con le immagini. L'idea di ciò che vuoi. Poi, la pratica. Anche qua, torniamo di nuovo a un quadro generale, l'immaginazione di ciò che vuoi ottenere, di dove vuoi arrivare. E poi la pratica. Mettere in pratica ciò che sai fare. Perché? Perché nella realtà poi devi accettare che ci sono anche gli errori. Ciò che nella vita, nella mente, perdonami, è perfetto, nella vita poi deve passare attraverso la prova pratica. E quindi probabilmente degli errori, degli sbagli, cambi di direzione, virate. Ma fanno parte del percorso perché ciò che era immaginario deve diventare reale. Come fai poi a raggiungere il successo? Attraverso la pratica, attraverso il tuo talento, attraverso le abilità che hai e che acquisisci e che affini nel tempo. Tutto ti porta alla realizzazione di quello che è la tua idea di successo. Ti trasformi nel cammino. E questo ci porta alla quarta abitudine da coltivare. Adattarsi al cambiamento. Come un piccolo brugo che deve diventare far farla. Adattarsi al cambiamento significa che la trasformazione che metti in pratica da ciò che hai nella mente a ciò che è la realtà ti trasforma come persona, come mentalità e trasforma l'ambiente intorno a te. Tutto è un continuo cambiamento. Quindi, per quanto possa sembrarti assurdo, raggiungere il successo richiede un periodo di adattamento e poi di cambiamento. Quindi, adattarsi al cambiamento. un'idea ti trasforma e trasforma tutto ciò che è intorno a te. Ti devi abituare a queste piccole trasformazioni oppure grandi cambiamenti, ma generalmente sono le piccole trasformazioni che lentamente una ad una diventano dei grandi successi per te, per la tua vita e per tutto ciò che è intorno a te. Quindi, io a questo punto ti saluto con questo video. Abbiamo capito che quello che veramente nella vita ci aiuta a raggiungere il successo sono le abitudini perché vanno prolungate nel tempo. Sia a livello fisico perché nella realtà poi è quello che realizzi. Sia a livello mentale quello dell'idea di partenza dove nasce e poi il punto di arrivo. La realizzazione di ciò che sei e di ciò che vuoi diventare. quindi il tuo successo personale. Bene, a questo punto ti saluto. Ti ricordo che puoi seguirmi attraverso il canale YouTube o attraverso il blog. Puoi iscriverti e seguirmi su entrambi i canali e non perditi tutti i post e tutti i video che pubblicherò. Io ti saluto. Ciao da Roberto. Al prossimo video.